Ok, vado. Salve a tutti, Andrea Gagna, appartengo all'unità Valla TM. L'NRC Industrial Pollution è uno degli ultimi costituiti, ultimi no, però comunque più recenti. I componenti tutti in Ispra appartengono, insomma, in tre nella stessa unità Valla TM e ci sono altri due colleghi da Valla RTEC per la parte dei controlli sugli impianti industriali. Il quadro di riferimento, diciamo che il tema è quello dell'inquinamento industriale, pertanto diciamo che la costituzione di un NRC sull'inquinamento industriale risale più o meno al 2014, deriva dal fatto che maggiore attenzione nei piani di azione pluriannali dell'Agenzia Europea da quell'anno è stata posta sul tema e quindi si è pensato di avviare anche un centro di riferimento nazionale su questa serie di argomenti. Il contributo naturalmente è sempre dare maggiore attuazione alla normativa ambientale UE, in particolare a quella che ha a che fare con gli impianti industriali, quindi segue un po' tutta l'attività legislativa che è partita nel 2010 con la rifusione, nell'ottica dello snellimento della normativa europea sulla parte degli impianti industriali, con la rifusione in un unico provvedimento di circa sette direttive. Ovviamente gli obiettivi poi specifici, in parte anche ambiziosi, insomma, che sono stati dati, sono appunto dare attuazione, revisione, coinvolgimento dell'Aionet, tutta una serie di valutazioni sulle politiche relative all'inquinamento industriale attraverso tutte queste cose, cioè miglioramento della qualità dell'informazione disponibile e diciamo che l'NRC, come fra poco farò vedere, è incentrato su una serie di flussi di dati che hanno a che fare appunto con gli impianti industriali e che costituiscono poi la base principale, diciamo così, delle informazioni su cui l'Agenzia chiede il coinvolgimento, in qualche modo sta cominciando a chiedere il coinvolgimento degli NRC, di questi NRC. Dunque, io per quanto riguarda la partecipazione ai workshop tematici, è il secondo anno di seguito che non riesco a partecipare di persona, ma seguo attraverso uno streaming che consente solo l'audio oppure l'interazione a distanza tramite posta elettronica. Quest'anno non ho partecipato attivamente inviando email a chi era riunito a Copenaghen, però ho comunque eseguito i due giorni di lavoro, insomma il giorno e mezzo di lavoro. Per quanto riguarda il contributo che viene richiesto a questo NRC, fondamentalmente, come dicevo prima, si tratta di lavorare su flussi di dati. Quelli che trovate in questa tabella sono i principali sostanzialmente. La banca dati e PRTR che ha a che fare con impianti industriali che coprono un po' tutte quante le categorie di attività. La banca dati dei grandi impianti di combustione che è più specifica e più omogenea come contenuto. L'Agenzia Europea prepara dei report tematici annuali pure su tutta l'attività del mercato delle quote 12, quindi del registro europeo ETS. Segue anche per conto della Commissione in un rapporto un po' più diretto con le aziende che producono, importano e esportano i gas frorurati, la raccolta dei dati che è prevista nei regolamenti europei e produce dei report sui quali in realtà c'è poi una richiesta in termini di consultazione ma non c'è un vero e proprio coinvolgimento in fase di stesura, per esempio. Dico questo perché a livello nazionale non so bene qual è la situazione negli altri paesi ma noi abbiamo un'altra raccolta di dati sull'IFGAS che ci impegna parecchio e che potrebbe in qualche modo essere messa anche in relazione con tutto quest'altro lavoro. Però non si è ancora aperto un fronte su questo tema specifico con l'Agenzia Europea. E infine c'è l'attività che discende proprio dalla rifusione delle normative sugli impianti industriali settoriali che è la realizzazione di questo European Registry. dovrebbe essere il traguardo concreto e operativo di tutta l'operazione che nel 2010 ha portato all'adozione della direttiva emissioni industriali e che vede l'Agenzia Europea impegnata non solo come braccio operativo ma proprio come fornitrice del data model della costruzione sia del software per la rendicontazione ma poi anche della banca dati finale di una passata in termini di un mostro che conterrà informazioni sia amministrative e patematiche su tutti gli impianti presenti nel territorio dell'Unione Europea dal punto di vista sia delle autorizzazioni i controlli fino ai flussi dei dati tematici questo ovviamente per tappe successive. Ci sono stati dei ritardi nella realizzazione e nella fornitura dei primi data model che discendono naturalmente pure da problemi a livello di commissione nell'emanazione di decisioni attuative che sono arrivate praticamente tra marzo e aprile di quest'anno senza le quali diciamo che più di un paese membro si trovava in difficoltà anche nel pensare di fornire poi o di far partire fosse soltanto la fase di test per fornire tutti i dati richiesti. In questa tabella non ho riassunto le scadenze diciamo che fondamentalmente le scadenze principali per quasi tutti i flussi di dati si tratta di dati forniti su base annuale per il PRTR i grandi impianti generalmente le scadenze di comunicazione dei dati cadono tra fine aprile e fine maggio con riferimento ai dati dell'anno precedente ETS se non ricordo male l'agenzia accede i dati mi pare a partire dalla fine di maggio sugli FGAS più o meno il periodo è sempre quello quindi diciamo che nel primo trimestre e quadrimestre di ogni anno si addensano un po' queste scadenze di comunicazione la maggior parte dei componenti di queste NRC a livello proprio di Unione Europea è costituito tra l'altro dalle persone che nei singoli Paesi membri svolgono anche la funzione del gestore del flusso di dati per cui a volte come è stato già più volte ripetuto nell'arco della mattinata ci troviamo non dico in conflitto di interessi però se da una parte può essere un vantaggio partecipare nel centro di riferimento nazionale sul tema inquinamento industriale e dall'altra dal lato del produttore del dato a livello nazionale ci troviamo un po' in imbarazzo perché insomma ci rendiamo conto della difficoltà nel sottoporre a revisione i dati mancando spesso insomma dei riferimenti ben documentati e anche bibliografici penso a fattori di emissione non solo per l'aria perché per l'aria diciamo che siamo ben coperti anche a livello di Paese per la presenza degli inventari insomma nazionali però per esempio pensando al flusso dei dati PRTR che è quello che seguo poi in prima persona ci sono altre matrici le emissioni nei corpi di risuperficiali e gli scarichi in fognatura nonché anche il flusso fuori sito dei rifiuti che sui quali a livello europeo a volte ci arrivano dei feedback periodici non documentati nel senso che per esempio le valutazioni che fanno circa il fatto che un impianto oppure un altro nel singolo paese secondo l'agenzia europea avrebbe l'emissione d'arsenico sopra le soglie di dichiarazione diciamo che è documentato semplicemente dall'applicazione di un fattore di emissione che è preso dalla letteratura non si sa bene su quale base è calcolato soprattutto su quali dati d'attività quindi per esempio su quale portate d'acqua allo scarico di un depuratore è stato applicato sostanzialmente se è il dato tecnico di progetto la potenzialità massima o se effettivamente è il regime di portata trattata nell'anno tanto per fare un esempio quest'anno si sono concentrati sulla parte dei metalli pesanti nelle acque e sono uscite fuori un bel po' di segnalazioni che però per esempio personalmente sto per rimandare al mittente perché vorrei che fossero meglio precisate questo perché perché purtroppo il discorso è che al di là poi dei contributi aggiuntivi richiesti sulla valutazione di report tecnici country profile come chiamano oppure i fact sheet sugli indicatori e vengono messi a punto il problema è che in certi casi in mancanza di appunto una metodologia condivisa e documentata il problema del commentare il dato quando il flusso di dati prevede la raccolta a livello di impianto significa necessariamente per anche l'NRC il membro dell'NRC consultare se c'è la propria rete e in questi casi la rete corrisponde alla base di garante la base di garante significa che tu devi contattare un certo numero di impianti minacciarli in qualche modo di ritorzioni se non rispondo dentro tempi strettissimi perché altrimenti non puoi compilare il file che ti ha preparato con l'agenzia europea oppure glissi e dici che ci stai studiando sopra e stai consultando e che è appena possibile fornirei un riscontro però anche qui al di là dell'organizzazione di lavoro a livello personale il problema come è stato anche sollevato è nella definizione o nell'identificazione di una rete di esperti a cui fa riferimento questo passo direttamente a opportunità e criticità per l'auto opportunità vale sicuramente il confronto e lo scambio di informazioni con gli omologhi degli altri paesi o insomma gli altri paesi che intervengono all'interno insomma di questo NRC e quindi benvengano i meeting i workshop i webinar a cui partecipiamo e cerchiamo di seguire sicuramente lato agenzia europea è importante pure che ci sia un supporto sui processi di controllo e valutazione della qualità dei dati che forniamo attraverso i flussi prioritari soprattutto quando a livello di paese poi su questo aspetto possiamo essere carenti perché la rete che dovrebbe supportare insomma la valutazione dei dati è costituita soprattutto da provincia e regioni non necessariamente dai colleghi delle agenzie e che quindi molto spesso sono anche latitanti lo dico con cognizione di causa e senza tema di smentita per cui non ci sono problemi dal lato delle criticità la rete di esperti vi faccio un esempio molto molto semplice anche abbastanza recente strettamente collegato con un tipo di feedback o coinvolgimento a livello proprio di NRC Industrial Pollution verso marzo l'agenzia ci ha informato che nel corso di quest'anno svolgerà uno studio su il settore dei depuratori industriali e in particolare vuole star raccogliendo tutti i dati disponibili già presenti nelle banche dati negli altri flussi di dati rendi contati per normative specifiche e si è rivolta agli NRC Industrial Pollution per richiedere informazioni aggiuntive sugli investimenti fatti in termini di risparmio energetico e conseguente abbattimento delle emissioni dandoci dei tempi di risposta di una ventina di giorni fare una cosa del genere la mia prima reazione è stata no vabbè ovviamente non ti aspetti che ci sia una risposta da parte dei paesi a meno che non abbiano già in piedi un sistema ben oliato il tentativo che ho fatto personalmente dopo aver appurato che in Ispra contattando i colleghi NRC Acque questa informazione in sostanza non era disponibile perché altre sono le informazioni che vengono veicolate dai flussi che sono seguiti qui dentro ho provato a contattare l'associazione di categoria perché ho pensato almeno un interlocutore ben definito la risposta è stata che a fronte della proposta insomma di inviare un questionario costituito da sei domande stringatissime molte delle quali a risposta secca si no e un box in cui scrivere sinteticamente il tipo di intervento fatto sull'impianto ma proprio sinteticamente non entrando nel dato tecnico mi è stato risposto che un tipo di richiesta sicuramente gli associati si sarebbero aspettati qualche cosa in cambio e io ho detto scusate ma come associazione di categoria è il vostro interesse perché il qualcosa in cambio è la rappresentatività del caso italiano nello studio fatto a livello europeo che sicuramente pure se l'agenzia non l'ha specificato verrà utilizzato poi dalla commissione come un ulteriore contributo nelle politiche o nella revisione della legislazione di settore non so quando sarà perché non sono stati chiari esatto se i numeri vengono forniti al solito dalla Germania e dalla Francia e magari noi abbiamo delle specificità o abbiamo già fatto degli interventi che ci portano un pochino più avanti e le decisioni che vengono poi prese diventano non dico peggiorative ma un po' punitive ecco fatto che poi ovviamente è un problema abbiamo già una volta in corso ai cittadini dei curatori delle acque urbane e quindi questo era tanto per porre un po' la questione la rete di esperti pensavo speravo di non dover provare a contattare direttamente i gestori degli impianti che per esempio già dichiarano vabbè insomma se siete a conoscenza di questa possibilità e volete utilizzare l'informazione che vi do vabbè mi posso girare la lettera la lettera di richiesta il report la versione preliminare del report che l'agenzia dovrebbe predisporre su appunto il trattamento delle acque reflui industriali pare debba uscire intorno a settembre non hanno dato la data precisa però più o meno il periodo è quello per cui anche in quell'occasione se non circola in modo esteso a tutto l'indirizzario dell'NRRC appena lo riceviamo lo facciamo comunque circolare però ecco sì diciamo che fondamentalmente per quello che ho detto prima le principali criticità riguardano il fatto che trattandosi di un NRC che lavora su flussi di dati due dei quali sono anche prioritari siamo impegnati direttamente sulla fornitura del dato sulla revisione della qualità del dato e spesso le attività aggiuntive di revisione che ci vengono chieste poi dall'agenzia anche in termini di revisione di report che si vanno a sovrapporre in modo un po' conflittuale con le difficoltà che già abbiamo anche a livello nazionale e quando parlo qui nella slide di mandato informale poco chiaro dei centri nazionali di riferimento intendevo proprio quanto vi ho raccontato cioè non si capisce fino a che punto possiamo esercitare e storcere informazioni passatemi il termine perché ci prendono in considerazione o se agiamo come un qualunque soggetto istituzionale che prova anche senza una normativa alle spalle a chiedere informazioni aggiuntive insomma questo può essere un elemento di debolezza perché perde forza un po' tutto il processo di acquisizione di quelle informazioni che anche a livello europeo poi determinano delle iniziative anche legislative l'ultimo punto le scadenze a volte trappore avvicinate sì sarà pure che l'NRC Industrial Pollution è nato nel 2014 è entrato in attività nel 2015 quindi pure a livello europeo si devono un po' rodare però c'è questa concentrazione in corrispondenza delle scadenze di consegna dei dati che non aiuta certamente a collaborare quest'anno diciamo che anche c'è stato un po' riconosciuto dall'agenzia europea siamo riusciti un po' tutti i paesi membri a collaborare più attivamente degli anni passati però non nascondo che è stato abbastanza difficile tutto qui è rimasto il suolo di Viena con Viena grazie a tutti grazie a tutti Grazie.